Oh che schifo Non ha senso questa mappa Sì o ne è messi? Ovviamente no, che fai te ne prendi? Non mi è riuscito Mi putto per scavalcare, è stato vent'anni Allora io ho tante cose Da dire su questa mappa Uno, perché esiste? Tu sei d'accordo? Perché non ha niente questa mappa Dai, non scherziamo Mamma mia che teorico Che teorico Che teorico Ma cosa ho visto? Ho lasciato? Sì Ho lasciato, ho lasciato Ma poi Sono morto Vabbè noi chiediamo un Gian Sono morto Madonna, 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 madonna Madonna, 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 madonna Buono Buono No, cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Ho fatto una cazzata, ora sono morto Sì sì sì, ho sbagliato, sbagliato Faccio perdere tempo Non sono morto Non sono morto Non sono morto Che cuda Tra un po' parto anche un altro Gian Non sono morto Non sono morto Non sono morto Ce l'hai ancora Ce l'hai ancora tu Ce l'hai ancora tu? Sì sì Dov'è? 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 C'è la isteria Allora Ci sta, ci sta Ci sta Eh, che mi aveva ferito perché volevo chiudere quel Gian lì, sennò Gari Boh, tornava indietro Stava tanto chiuso il Gen C'era il 99 Allora Allora, ho iniziato ad aprire questa lontana Viene qua l'uscita? Eh, sì, sì Oh, shit Here we go again Ce l'hai con me Ha aperto lui? Perché ha aperto lui? Vabbè, anche durato poco sta partita Sì Posso venire dietro lo Shark? Ma è aperto? Sì sì Arrivo Arrivo con l'amichetto eh Ah, mi è rimasto indietro però Eh, vorrei farmi qualche dareta di protezione così vi faccio l'utiframe C'era l'altro È uscito Vacciniamoci, che importante Vabbè Vabbè Duc��ismi ci a capitò niente, eh? Vabbè 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 Fare L'achievemento